Ragazzi, benvenuti in questo nuovo episodio. Oggi parleremo nuovamente di Leverking, lo conoscerete già sicuramente, tre mesi fa feci un video su Brian. Lui, tre mesi fa, aveva poco più di 200.000 followers. Oggi, ovvero tre mesi dopo, ha la bellezza di 1.1 milioni di followers. Questo personaggio, se così possiamo definirlo, ha avuto una crescita vertiginosa sui suoi social media e non mi stupisce neanche questa cosa. Oltre ad avere un bel fisico, un gran bel fisico, tra virgolette, innaturale, ha anche uno stile di vita molto particolare, soprattutto il suo modo di mangiare. Se hai visto il video, sai di cosa sto parlando. Ecco, lui qualche giorno fa ha pubblicato un post su Instagram, un video, dove vuole rispondere a tutte le persone che gli chiedono se sia natural o meno, mostrando il suo, tra virgolette, stack. In inglese utilizzano questa parola, i bodybuilders, per definire uno ciclo di steroidi. Steroid stack vuol dire ciclo di steroidi, ecco. Prima di mostrarvi il video, voglio dire questa cosa qui. A me personalmente non interessa minimamente sapere se una persona sia natural o meno, perché, ragazzi, il nostro challenge primario dobbiamo essere noi stessi. Quindi, freghiamocene degli altri. Però, se ti arriva una persona come Brian, dove dice che è natural, mentre io e te sappiamo benissimo che non lo è, può dare un po' fastidio. Ecco, in questo video cosa possiamo vedere? Possiamo vedere due siringhe infilate ad un pezzo d'osso e altre due siringhe infilate dentro a del fegato. In seguito, con l'andare avanti nel video, lui dice, ecco, io mi alleno due volte al giorno, mangio bene, seguo il mio programma, seguo il mio programma, ecco, sono diventato così grazie al mio programma. Perché dà fastidio molto alle persone questo modo di fare degli influencer? Perché stanno utilizzando il loro fisico, che è tra virgolette non natural, per promuovere dei programmi. Quindi loro dicono, io sono così grazie ai miei programmi. Prendilo anche tu se vuoi diventare come me. E ovviamente dà molto fastidio questo alla maggior parte delle persone e non posso biasimarle. In seguito nel video mostra, se guardate bene dentro quelle siringhe, lui dice che dentro quelle siringhe c'è dello sciroppo di acero. Io ho letto un po' di commenti, mi sono messo a ridere perché molti scrivono che ci sia del tren. Ed effettivamente il colorito che si trova all'interno di quelle siringhe, al colorito del trembolone, è praticamente uguale. Io ho sempre apprezzato le persone che hanno ammesso, gli atleti, gli influencer che hanno ammesso di utilizzare steroidi, come non mi ha mai dato fastidio la persona che non dice assolutamente nulla. In che senso? Quando gli fanno la domanda se sei natural o meno, non risponde. Perché non risponde? Perché utilizza il suo fisico per portare il cibo a casa. Chi gli dà i soldi per portare il cibo a casa? I suoi contratti. E tu ti dirai, ma com'è possibile che ci sono persone che credono che il fisico di Leverking sia natural? Qui ti do ragione. Sì e no. Allora, pensa un po' che io quando avevo 14-15 anni pensavo che il fisico di Arnold fosse natural. Ragazzi, è normale credere che alcuni fisici del genere per un neofita o ad una persona che ha poca conoscenza in questo ambiente pensa che un fisico come quello di Brian possa essere natural. È ovvio, è un neofita a poca conoscenza. Guarda, vi voglio far fare due risate. Andate su Google, vi vede Best Natural Bodybuilder. Cliccate il primo link. Ragazzi, è assurdo. Vedrete 18 atleti che sono natural, tra virgolette, ve lo dico già adesso, non ce n'è manco uno che è natural. Forse uno. E in primo posto c'è la foto di Mike O'Hearn. Chi è Mike O'Hearn? Moltissimi lo conoscete. È questo tizio qui. Lui ha poco più di 50 anni e ancora oggi dice di essere natural. Sono queste le follie che si vedono sui social media. Ecco perché io ho sempre detto che le social media sono un'arma a doppio taglio. Ragazzi, paragonatevi sempre a voi stessi. Il tuo challenge primario devi essere te stesso. Se il tuo obiettivo è quello di migliorare fisicamente, devi prendere come esempio solamente te stesso. Ovvero, utilizza una foto di un mese fa, di due mesi fa, tre mesi fa e paragonala a quella attuale. Quelli sono i miglioramenti che tu devi osservare, che devi apprezzare. Non paragonarti mai a queste figure qui, se no passerai veramente un brutto momento. Te lo dico io che ho avuto questa brutta esperienza. Paragonati sempre e solamente a te stesso. Ragazzi, spero che il video di oggi vi sia piaciuto. Voglio dire questa cosa, siamo quasi arrivati a 100.000 iscritti. Io veramente voglio ringraziare ogni singola persona di voi. Abbiamo creato una community fantastica. Spero che un giorno avremo l'occasione di conoscerci, grazie a raduni o altri eventi. Detto ciò, vi ringrazio nuovamente. Spero che il video di oggi vi sia piaciuto. Se è il caso, lasciate un like, iscrivetevi al canale, attivate la campanella e come al solito, ragazzi, noi ci vediamo al prossimo episodio. Vi mando un abbraccio grosso a tutti quanti. Ciao!